Ciao a tutti ragazzi, io sono Zwei Shacon e oggi sono qui con un nuovo video, allora ragazzi, oggi mi vedete sul desktop e infatti davanti a voi provatevi l'immagine, cioè il video di Audacity che scorre la mia voce, scusate, e ho fatto questo video perché, allora ragazzi, se io vi facessi vedere il mio pitch attualmente, non lo vedrete perché sta ad aggiustare e penso me lo riporti, allora domani mi fa vedere, mi dice forse che cosa ha il mio computer, intanto spegno la controlla, che cosa ha il mio computer e in base a quello che può fare, mi fa sapere, ha detto che forse me lo rilai entro il 24, non ne sono sicuro ragazzi, però anche forse dopo Natale, non lo so, ecco, quindi i video, i live per ora sono sospesi, ma penso che farò ugualmente il Rotate to Christmas, forse non a partire dal 22, ma dal 23 penso che li inizierò a fare, vedevo un po' a canizzare, ecco, ma niente, è tutto quello che volevo dirvi, quindi mi scasi molto per questo inconveniente, ma il mio computer, un problema molto grave, ha una scheda video pessima, si perché l'ho mandato a fare una scheda video, però purtroppo il mio pc è quelli piccolini, non quelli piccoli minuscoli che servono adesso, che non valgo niente, no, quelli che sono grandi sono un po' più ridotti, ecco, e quindi bisogna vedere se ci entra, è per questo che lo devo analizzare un po' più tempo, ok ragazzi, io questo lì non lo caricherò in internet tranquilli, quindi se devo fare una comunicazione, ve la faccio, e va, con questo piccolissimo video vi ho informato di cosa sta succedendo, e noi ci vediamo, un prossimo video, speriamo il ben di te ragazzi se ci riesco, bella!